E allora Roncaglia, un commento su ciò che è accaduto alla sua fidanzata? Niente di che, c'erano alcuni ragazzetti un po' burloni che volevano giocare, ma lei non aveva tanta voglia. Giocare? Sembra che uno abbia perso un occhio. E un altro è rimasto senza un braccio. Addirittura un poveraccio si è ritrovato con un'ascia in fronte. Io gliel'avevo detto di andarci piano, ma lei non ha voluto sentire i seghe.